Nella prossima occasione ci vedremo sicuramente da tutto. Navier Giuseppe Ricotta Grazie a tutti. 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 Sono le 18.39, vi salutiamo questa diretta, ricordiamo ancora una volta la buffet, abbiamo Domenico Bruno al pianoporte, Francesco Bruno che ci ha dato una mano per le percussioni e vi saluta Antonio Finelli. Alla prossima, ciao!